Oggi andiamo ad accoppare un po' di gente Non lo facevamo da un bel po' e bene Ok ragazzi siamo negli Skywars Andiamo un po' a vedere chi troveremo Chi sarà il povero disgraziato che andremo a uccidere o a trollare Ragazzi non ci gioco da un po' Devo dire la verità Potrei fare qualche fail Ma va bene cioè non fa niente Può capitare no? Assolutamente no Non deve capitare Perché noi dobbiamo vincere I fail sono soltanto per chi è nabbo E noi non siamo mai stati nabbi Diciamo Tra virgolette Crafting table No lo stavo facendo cadere io È stato bannato non me ne frega niente Auguri Ce n'è uno lì al centro No! Primo fail Da notare il meno un punto Che fa veramente della nostra dashboard La bellezza unica La fan fatale Va bene ragazzi ricominciamo Quanta bella robetta ragazzi Che abbiamo qui Adesso ci buttano giù Distraction Oh ragazzi 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 Caduto è caduto Quanto è bello quando ti guardano mentre cadono Tu cadrai nell'oblio Addio Lui vuole cadere anche lui giù Anche lui giù vuole cadere È stato un piacere Arrivederci È sciottarlo dalla distanza Grande Valerio è stato mutato per 10 minuti Tua mamma sarà contenta Tata 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 È diventato invisibile Fa che non lo vedo Adesso lo prendo a random Tata 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 No, sono un pillar, sono un pillar Andiamo direttamente qui sopra e ci andiamo a foltere tutte le ambaradane che c'è a disposizione per noi Proprio, proprio per noi, c'è scritto proprio Satyrion, è per te Sapete qual è la cosa bella di stare qua sopra? Perché possiamo andare direttamente sopra i nemici Non abbiamo armi niente, non abbiamo armi di distruzione, però abbiamo la possibilità di tirare a pugni Così, come abbiamo appena fatto, ciao, dobbiamo andare un attimo nella nostra isoletta, cercando di non cadere Che ragazzi, direi basta con le Skywars per oggi, cambiamo minigame Andiamoci a fare una beeeel battle, che no, anche questa I minigame ragazzi, io da tanto non li faccio, supportatevi, non so, mettete un bel po' di like per farli ritornare sul canale Allora, vediamo un po' cosa andremo a costruire di l'erch sudicio Pigman, bello Io ragazzi non ricordo i colori del pigman, però andiamo a intuito, proviamo Cerchiamo di non fare una cosa troppo gigante, perché poi non riusciamo a finirla Cioè, non sono gialli, sono rose i pigman, però ricordo che hanno una parte gialla La bocca, vabbè, la bocca a doppio, dai È figa, dai Facciamo una spada almeno, dai Una fence qua, e una fence qua Assomiglia, vero? Eh, ragazzi, va bene, dai Che volete di più della vita? Questo è un ghiacciolo alla banana No, no Questo è un ghiacciolo alla banana Wow Sicuramente, ragazzi Sembra la tartaruga ninja Come no, non ci voleva tanto, eh, a piazzare le uova di pigman dentro Ti sei disperato nel crearlo, eh Fa schifo perché non l'hai finito, io almeno l'ho finita la mia struttura, la mia opera d'arte Ma che è? Ti telefono casa col ghiacciolo alla banana pure tu? Dai, che figo Assaggiate il ghiacciolo alla banana, secondo me vi piace Il pigman carabiniere Pup Sì, la bacchetta magica, eh Splendido, splendente, super pup Questo? Questo lo stavo facendo, meno male che non l'ha finito Non ho posto Ha vinto questo Ecco perché non ci giocavo più io, ragazzi Bello il cartello, ti piace? È bello, vero? Ah, da pigman a monkey, che? Cosa è? Ma le beat butt degli animali, eh? Ma ho sbagliato stanza Allora, monkey si può fare Che si può fare? Questo è il culetto, ragazzi, della scemmia Ragazzi, sinceramente Non so che cosa sto facendo Non è un coniglio La chiude? Ti mantiene una banana Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo Salta! Nero, nero, nero Boom Ok Che cosa è? Questa cos'è? Uh, super pup Una scemmia scema con il perizoma Super pup Ha il telefono a forma di banana anche Anche se assomiglia più a IT telefono a casa Però Ha good, anche questo è good, è good Se è una pixel art non va bene Fai Che è una g Una scemmia giziana Questo mi ha copiato Questo mi ha copiato, stronzo Settimo posto Beh, ragazzi Io spero che con gli smeraldi Nelle nostre mani L'appuntamento vi sia piaciuto Ovviamente vi invito a mettere un bel like al video Iscrivetevi al canale se ancora lo avete fatto Commentare qui sotto Con suggerimenti, minigames e quant'altro Come sempre vi invito al prossimo appuntamento Qui è tutto da Satinio Arriviamo almeno a 50 like per i prossimi minigames Ciao, belli Ciao, belli Ciao, belli Ciao, ciao